Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ho portato il Mavic Mini a volare a Montevecchia. Qua ha fatto la recensione del Mavic Mini anche Andrea Galeazzi, anche perché questa location dista da me circa una decina di minuti di macchina, quindi sono veramente vicino a questa location e qua Andrea Galeazzi viene anche a fare tutti i test delle autovetture che recensisce. Lui qua ha fatto la prima prova del Mavic Mini, ha fatto il range test facendolo andare verso Milano, ovviamente non si vede niente perché c'è un po' di foschia bassa e sta quasi diventando sera, però dalla parte di là c'è Milano. Ma noi ragazzi non siamo qua per fare un range test, quindi non andremo verso Milano ma andremo verso il santuario che è la cosa più bella di questa location e il santuario è là sopra. Lo vedete là in alto, purtroppo davanti c'è anche quel palo pieno di antenne, quindi sicuramente creeranno interferenze, ma col Mavic Mini tenteremo di fare anche questo, quindi voleremo col Mavic Mini al santuario, ma per fare tutto questo dovremo affrontare prima una scalinata lunghissima, quindi adesso incamminiamoci verso la scalinata. Scalinata ragazzi è questa. Direi che è abbastanza impegnativa per il mio fisico stanco devo dire, però per fare i video con il Mavic Mini questo è d'altro. Questo ragazzi si chiama portabilità e nel Mavic Mini è un punto di forza veramente incredibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.